Sarebbe lui l'uomo chiave dell'inchiesta, la mente dell'organizzazione di professionisti, avvocati, bancari e imprenditori che aveva deciso di investire sulle mega truffe che ieri è stata smantellata nell'ambito dell'operazione Cala S.P.A. dei Carabinieri di Palermo. L'avvocato Alfredo Tortorici, 43 anni, residente in Inghilterra, secondo l'accusa era la mente della banda, l'uomo chiave, colui che, grazie ai suoi contatti internazionali, gli agganci e le coperture giuste, poteva garantire il successo delle operazioni pianificate. Persino il colpo da 40 milioni ideato nel 2010, che avrebbe dovuto svuotare i conti dei fondi pensione dei dipendenti del Monte dei Paschi di Siena, era farina del suo sacco. Tortorici, destinatario dell'ultima delle 27 ordinanze di custodia cautelare eseguite dai Carabinieri, irreperibile fino a ieri, si è costituito stamani, consegnandosi al carcere Pagliarelli di Palermo. La megatruffa al Monte dei Paschi era stata ideata nel 2010, nelle intenzioni della banda il denaro doveva essere prelevato dai conti del Monte Paschi Siena, in cui erano depositati i fondi pensione dei dipendenti, attraverso un'introduzione clandestina nei sistemi informatici del gruppo. Una volta prelevato da quei conti, il denaro sarebbe stato versato alla Falcon Bank di Zurigo, dove Tortorici aveva contatti importanti, e da lì trasferito in paradisi fiscali come le Cayman. Una truffa di proporzioni enormi, quasi da film, ma semplice da realizzare perché l'organizzazione contava sulla complicità di un dipendente infedele della banca, Francesco Spataro, anche lui finito in carcere ieri, e sull'abilità di alcuni operatori informatici, cosiddetti cracker, Alessandro Aiello, Fabrizio Spoto e Giuseppe Burrafato, ora ai domiciliari. Sarebbe stato proprio Tortorici a scegliere Spataro come uomo chiave di quell'operazione, in servizio in una filiale dell'Istituto di Credito Toscano, era riuscito persino a rubare i codici di alcuni alti funzionari della banca per avere accesso ai conti. Tutto questo era stato scoperto dai carabinieri in tempo reale, ed alcune intercettazioni nell'ambito di un'inchiesta di mafia avevano appreso il nome di Lorenzo Romano, vicino al boss Mandala, e avevano piazzato le microspie nella sede della sua società di consulenza, l'advisor team alla Cala, che però era anche la centrale operativa delle truffe, e furono proprio quelle cimici a rivelare agli investigatori i progetti del gruppo, la polizia mise in allarme il monte dei Paschi di Siena e il maxicolpo fallì. Tante altre però sono le truffe pianificate dal gruppo e scoperte dai carabinieri, l'unico colpo andato a segno, quello sugli incassi delle cessioni del quinto e dell'indenità di disoccupazione, realizzato attraverso un sistema di prestiti, società fantasma, licenziamenti e fallimenti fittizi.